Meno 2, meno 1, eccoci qua. Benvenuti a tutti quanti qua, sono in diretta sulla pagina di Chieditorio Gassilesi su Facebook, poi ovviamente ringraziamo quelli che saranno collegati e che si vorranno, come dire, collegare sulla pagina Instagram e TikTok, ma su questa pagina possiamo giustamente assistere in diretta in tempo reale, magari con i vostri commenti, lo chiedo ai nostri amici che stanno dall'altra parte del video, alla topolata, presto di da questa macchia, alla OSEAN. Siamo praticamente pronti, c'è un bel po' di gente, se volete ve la faccio sentire, facciamo sentire un applauso e adesso vi faccio vedere anche chi sono, eccoli qua, un saluto da quell'altro, eccoli qua, guarda quanta bella gioventù, con questi noi da naturalmente avremo il piacere di passare questa oretta, salutiamo i nostri amici che ci collegano da ogni torre, il primo a collegarsi è stato un giro da Milano, saluto l'anzia Maria, saluto l'anzia Tonino, saluto a tutti quanti, e nel frattempo, signore e signori, diamo spazio e vita alla tombola! Allora, tutto in diretta, eh, attenzione, in diretta, primo numero, non barare, e che faccio, separare, pronta? Il primo, il primo numero è il numero? numero uno, due, numero due! Comunichiamo un'altra cosa molto importante, comunichiamo una cosa molto importante, in caso di ambo contemporaneo, contemporaneo, si fa, ovviamente, la, no, l'estrazione, prossimo numero, si sceglie chi ha fatto le vincite, o le tre vincite, o si fa un numero più alto, oppure pari o dispari, va bene? Chiaramente se ne scende pari, i signori che hanno fatto adesso, quello che dice, se si fa, vince, giustamente per proseguire la nostra... Angela Di Volunio, ciao, siamo in diretta, abbiamo questa macchina, ma fanno la tontosa, stanno andando a te, esatto, vedi? Allora, via, pronto, secondo numero? Sbatto? Sbatto? Attenzione, numero 38, 38, 38, abbiamo il primo alto? No? Altro numero, velocemente, andiamo subito, oh, ragazzi, numero 90, 90, ma fanno a più? 90, 90, uè, se fai che ho ammesso, sì, ancora, sicuro con la siena, abbiamo il prossimo numero, numero 9, abbiamo l'albo? Nessun'albo ancora, nessun'albo ancora, attenzione, attenzione, numero 14, albo, fermi, fermi, signora, dice il numero? 9, 38, qualcun altro ha fatto l'albo? Signor 38, è uscito, ce l'ha, numero 9, numero 38, ha vinto, venga, signor, rega, prendo il premio, consiglio il premio, il signor Antonio Corralo, vieni, Antonio, vieni a consigliare, addestressione, anche tu hai fatto l'albo? Un attimo, siete a far counci un altro albo? Oh, è male, è ancora là, esce. Signore, diventate. Signore, quant'adoce, non è uscito. Non Wasn't. Esce l'ultimo, è uscito prima che non uscite era l'albo. e c'è adesso signora aspetta la consiglia la consiglia per vedere consiglia il premio il signor Antonio Correra signor Pespetta come si chiama? Caterina Caterina auguri a Caterina salutiamo Caterina salutiamo prossimo numero 14 e lei signora avrebbe fatto altro sono tutti furbi vogliamo vincere eppure dice no noi siamo venuti solo per giocare non per l'imprendio posso mica la capito la capito si sono fatto tutta la messina voglio questa signora non è che la volesse soltare si è arrabbiata ne attenzione numero 80 è uscito 80 qualcuno interno qualcuno ha fatto interno numero 71 71 71 che c'hai quanta pazienza mi sono convocriato molto superi stiamo assicurando sì è o no devo mischiare un attimo che mischio mischio un attimo che sto mischiando si sente? sì arrivo stavolta 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 paghiamo appicchiata pariare 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 numero 29 29 29 29 29 29 29 29 29 niente sta Umberto sta Umberto Dionisio che ne ha fatti un nome è la cartella che ne ha il numero 1 ok ma sa il numero attenzione numero ho battuto 51 signori abbiamo il terno qualcuno fa terno niente spattimento spattimento dai signora franca è arrivata la signora franca la vici signora franca fai un saluto qua ciao vieni avanti chiamo figlio francesa chiamo figlio spagnola la signora va avanti torniamo alla tombola torniamo alla tombola sì allora mi chiedono se possono partecipare anche sì sì potete partecipare vincerete i premi no no dalla dalla diretta dalla diretta rotto aspetta che mischio bene si sente mischio non c'è bisogno non va il parco mi trovo non si sente 76 76 era 75 75 è uscito a voi un attimo la signora brigida non ha fatto un numero è qui l'anno scorso se frega due panettoni stavano meglio un numero ma attenzione attenzione 65 75 75 75 pronto attenzione signora santa vieni qui metti la mano dietro e c'è tira la posta vai attenzione di che numero aspetta aspetta di 88 le calciotte le calciotte 88 88 88 allora per gli altri sono usciti sono usciti e non tornerò più numero 2 9 14 29 38 51 71 75 76 80 88 è uscito anche 90 90 papà gru si è tolto ancora ancora un pochino un lupo qua c'è chi alziamo la cartella si crede che fa tolbo lassù andiamo avanti sbattimento 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 guida signori è uscito il numero 8 sbattimento sbattimento come penso dentro sbattimento lento sbattimento lento sbattimento lento aspetta la signora che ha scelto che numero ha preso 6 che numero 6 6 chi c'è il 6 chi c'è il 6 il 6 non c'è allora se vuoi sapere i numeri quelli che arrivano quelli che arrivano alla prossima se no non la finiamo più con questo 83 è uscito il numero 83 83 83 attenzione sbattimento aspetta che aspetta che sta il presidente vai presidente fai vedere che numero 84 84 ehi abbiamo la terna signora signora interno mi devi dire qualcun altro ha fatto terno 2 tutti marito e moglie che cuore scusi prima dite i numeri se no facciamo conclusione vai 38 92 90 91 signora 10 euro per piacere dammi 10 euro 20 euro 6 6 ce l'abbiamo si ce l'abbiamo 75 si come 80 ma ma che bella fortuna venga signora un bel premio signora è venuto per divertirsi grazie un applauso alla signora un applauso alla signora un applauso alla signora un applauso alla signora mostra il primo sono discoli sono discoli Sebastiano sono discoli sono un pezzo creato incredibile ma come si diverte no, siamo venuti per giocare per divertirci vogliamo pure un soldo cosa sopra la chiede la quaterna adesso quaterna prossimo numero estratto signori numero estratto 72 beh se non è un numero fino alla fine c'è un signore che manco un numero l'ha fatto fino ad ora io gli do il premio se vince senza fare un numero attenzione numero estratto è il numero 15 aspetta 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 il numero estratto è quello ti riguarda 16 ti riguarda numero 16 attenzione ragazzi questo numero lo dobbiamo dire tutti insieme un set mio padre cassinesi 78 78 78 78 78 chi ce l'ha in 78 attenzione bel numero allora il numero estratto è 27 27 27 san pagalino a quello è un 16 pari chi non ha chi non ha avuto ma per un numero che ha un premio c'è il premio di consolazione c'è un premio chi non ha un numero avrà un premio di consolazione vai numero 86 mancano mancano ancora dai prossimo numero estratto è il numero 50 50 oh sveglia 50 abbiamo il numero 50 qui la tombola alla grande siamo a Villa con sta macchia dove sta ma Villa con sta macchia stanno i premi i premi loro dicono ci divertiamo e stiamo a divertirci numero 20 è un strato il 20 signora facciamo quaterna qualcuno ha fatto quaterna ancora niente ancora niente vediamo che che cosa abbiamo dai andiamo avanti veloci numero estratto 89 altro numero numero estratto 26 che l'abbiamo? 26 attenzione 11 11 e vai andiamo avanti chi è? la signora è arrivata adesso attenzione il numero estratto è il numero signori un po' di attenzione 37 vittorio fai estrazione a vittorio aspetta 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 vittorio aspetta vittoria 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 estrazione dell'otto vai il numero estrae estrae vittoria estrae 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 vai a vedere che stai estraendo vittoria numero il morto che parla 48 48 morto che parla vai 48 dico un po' alt neee sei rispecchiato un po' sei rispecchiato un po' c'è che sei rispecchiato un po' non un numero è un po' di attenzione l'altro alt l'altro una volta una volta siente aspetta aspetta signore silenzio 78 78 78 ha detto si 78 un po' 48 48 c'è 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 9 29 29 9 29 29 19 16 16 16 16 sappiamo è giusto complimenti signora venga qua venga qua signora Vittoria prenda questo duetto e lo consegna attenzione consegna il premio alla signora come si chiama? Rosalba lo salva complimenti alla signora Rosalba dai un applauso per invidia un applauso per invidia dai questo è un applauso andiamo avanti andiamo avanti sono con Vittoria e Vittorio attenzione la quintina numero tre eh buona quintina signora Sarta le mie strade vieni vieni vai estrarre la signora Santa? vai ti raccomando c'è numeri eh eh 69 iuuu eee come vuote come l'angelo signora che ha fatto? aspetta l'angelo c'è numeri signora signora Santa lei mi casca su 69 la mia Presidente dove sta? dove sta? come l'ho trovata? è così e di là e di là ma la prendi ma la prendi ma la prendi io nel frattempo continuo viaggiamo ehi attenzione numero 47 che stiamo come stiamo qua vai astraio attenzione estrazione dell'otto estrazione del numero 74 74 74 anni di vittorio e voi e qualche anno 74 74 vittoria vittoria aspetta aspetta che dici salutami a vittoria saluti ci si saluti a Virginia ciao ciao saluta Franco venite qui a giocare a tombola come ti piace a me vabbè scusami stiamo a far la tombola possiamo far la tombola usate abbiamo gente numero numero usate abbiamo gente numero 87 e però anche vittoria 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 Tom Bologna, ho fatto quintini, ho diritto a qualcosa, qualcuno ha fatto la quintina, qualcuno ha quintini, andiamo avanti, previ il pario per tutti. E' un'emozione, sarà perché ti amo, è un'emozione, e ti si è piano piano, ti giri forte, e poi non so le parole, sarà perché ti amo, numero 73, uscite 73. Adesso andiamo alla quintina, quintina, chi c'è la quintina con numero 79, 79, attenzione, saluta la signora Angela, l'ha fatta la signora Vittoria, fai scendere, spera, spera. Stanno sbattendo il sacchetto, vittoria, perché la gente deve controllare, che questo è totale, numero 12, è uscito il 12, spera, spera, sbatta il sacchetto, attenzione, numero estratto, eh? 57, 57, 57, fai, 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 fai vedere, può prendere, può prendere il numero, numero, 18, numero, 85, 85, 85, a me, a me, a me, 85, 85, chi è che c'ha 85, qualcuno ha fatto quintina? No, signora, signora, date i numeri, date i numeri, 58, 所有, ważne, according a Sorbonne, rivestate con nato, appointed, 24, pea, fai, 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 fai. 72 ce l'abbiamo 58 26 e ce l'abbiamo e ce l'abbiamo e vabbè uno no 5 5 5 il premio alla signora complimenti un applauso per l'invidia beh adesso veloce 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 ha fatto 6 e veloce ha detto tolgo la 22 22 43 43 43 signori 43 è uscito 28 va beh 28 signori numero 28 eh sì troppo tardi 53 53 poi il duetto vittorio vittoria e vittoria numero 7 a te a te che manca un numero qua 36 36 36 41 41 41 numero 19 19 19 19 19 attenzione al prossimo numero 68 68 dai 68 è uscito 56 56 56 56 56 56 la signora la signora quando beve è fatata non si dice però 46 56 46 56 54 veloce andiamo veloci 40 77 47 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 signora 21 e cominciate veglia veglia andiamo 35 35 35 35 e da 5 cadostri cassese cassese stai qui? no non c'è cassese vai avanti 4 4 4 a casa a casa Angela voi avete fatto tombola Virginia che avete fatto? niente ancora? niente vai numero 1 numero 1 l'Italia la signora la signora ce l'ha detto che l'aveva avuto poi la signora la signora il numero 82 attenzione attenzione fatti numero adesso adesso è uscito no era il numero 6 tranquilli oh vuole 20 oh oh vuole 20 42 42 pronto? pronto si chi è? chi è? non c'è? 60 70 70 signora 70 ci siamo? scamate 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 44 44 44 gatti in fila per sé in corresa di 2 in fila linea in fila per sé in corresa di 2 27 ma è bello 17 17 scamate e un numero ci manca oh no ancora va a 6 25 ancora va a 6 no mi sono chiedendo il 25 a casa numero 49 49 uscito a voi? no? 49 49 secondo la carta o signora no a casa poi numero 13 stanno andando 13 13 13 13 13 arriva 32 arriva spero 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 signora spatti ma signora spatti spatti un po' no Natale è uscito Natale va sotto Natale come il Natale non vengono a dare è difficile Natale Natale Sì 25 Natale vai 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 ma l'abbiamo detto numero 25 signora concentrata numero 10 ma sono due cartelli con due numeri che facciamo tombola qui manca uno eh uno qua e uno qua uno e l'altro vai signori se faccio tombola il panettone me lo becco io però vai ho no scusatemi come stanno i nostri numeri 64 fermati dove sta dove sta dì i numeri dai 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 i numeri togli le fapente come 33 no no 1 dì 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 vogliamo una cartella con la bozzi bozzi vogliamo la cartella allora questa è la cartella fortunata andiamo con 23 ce l'abbiamo 8 15 c'è 16 c'è 22 22 29 29 29 sì 48 51 57 64 72 non vale 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 82 82 82 e 87 la signora ha fatto la topola e ha fatto la topola e ha fatto la topola signora e ha vinto il pandoro per la topola signori un applauso per invidia signora vuole dire qualcosa alla stampa grazie 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 a tutti grazie grazie a tutti signori la topola la cartella signora signori la prima topola esaurita facciamo un saluto a tutti gli amici dalla villa guastabacchia buona serata ciao salutate ciao facciamo un saluto dai fate un saluto fate un saluto fate un saluto fate un saluto fai un saluto mi sto preparando Andonio fai un saluto fai un saluto beh c'è un nonno ah no ma non mi vai beh ti sta la zia presidente preparare la seconda topola fate un saluto fate un saluto fate un saluto fate i saluti fate i saluti fate un saluto Umberto fai un saluto in diretta ciao fate un saluto in diretta qua eh beh quel saluto eh bene 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 eh che tombola eh tutti no ci vogliamo divertire no non facciamo storie cosa vuoi andare a capire un premio che viene qua uno si prende per il premio no non doveva vincere lei sono così sono ragazze sono ragazze sono ragazze sono ragazze grazie fai un saluto fai un saluto allora cosa vogliamo dire gli amici caro guardato noi continuiamo a giocare a tombola e a voi tanti tantissimi auguri buon anno buon Natale buon Santo Stefano grazie a tutti buone feste ciao a tutti ci vediamo domenica mattina domenica mattina sono in piazza Cesare Battisti davanti al Carmelita Bistrò e a Cottura Media domenica mattina ci saranno giochi eh karaoke animazione mangeremo ci divertiremo e faremo anche tante tantissime cose belle quindi domenica alle ore undici vi aspetto in piazza Cesare Battisti come si dice reto tribunale vicino alla cattedrale capito dov'è? benissimo centro storico vicino alla cattedrale a domenica prossima ciao